Quasi una famiglia su due, il 45% approfitterà dei saldi, ma con acquisti mirati è un budget che scenderà di circa il 5% rispetto allo scorso anno, senza superare in media i 175 euro a famiglia. Sono queste le stime del Codacons secondo le quali i saldi sono di fatto già partiti in un negozio su tre in tutta Italia e nonostante l'inizio sia previsto nella maggior parte delle regioni per il prossimo 5 gennaio, gli esercenti applicano già sconti medi dal 20 al 40%. L'anticipo dei saldi purtroppo avviene tutti gli anni, si nascondono in attività, promozioni, qualcosa di diverso ogni volta e vengono sempre più anticipati e il lavoro si ferma molto prima del dovuto. La problematica è quella delle date dei saldi che sono troppo anticipate, bloccano il lavoro, soprattutto per chi come noi è legato a fattori meteorologici tipo la neve che ancora arriva per esempio quest'anno e ci troviamo fra pochi giorni ad affrontare già la problematica di fine stagione quando la stagione ancora non comincia. Quindi a mio modo di vedere le date sono da posticipare sicuramente almeno a fine gennaio. Per il Codacons alla base della mancata ripresa delle vendite l'eccessiva avvicinanza tra le festività natalizie e anche l'influenza del commercio online. Proprio sull'anticipo della data di avvio e sulle difficoltà del commercio in tempo di crisi si snoda l'insoddisfazione dei commercianti di Pescara che se da un lato patiscono la concorrenza dei grandi centri commerciali dall'altra provano a mettere in campo nuove strategie. Devo dire che fortunatamente anche avendo aperto da poco quindi l'8 di dicembre c'è stato un bel flusso di gente anche sotto le festività anche dovuto al tipo di attività che abbiamo e abbiamo riscontrato un grosso successo soprattutto nel periodo dei festivi e nei giorni successivi ai festivi dove le persone si sono sedute molto volentieri. Noi abbiamo aperto questa Enoteca Wine Bar proprio per abbracciare la più alta percentuale di persone quindi da una bottiglia in vendita, un pacco natalizio, i famosi cesti di Natale fino alla somministrazione di bicchieri quindi fare anche da Wine Bar con uno stuzzichino e ampliando questa offerta naturalmente abbiamo lavorato, lavoriamo bene. Noi cerchiamo sempre di trasmettere questo affetto nei loro confronti sempre con la nostra passione e nella ricerca del nostro cibo è il nostro cibo che si basa esclusivamente sulla tradizione perché soltanto con la conoscenza delle nostre tradizioni possiamo dar valore ai prodotti della nostra terra.